Prender via la Sagra della Caplaz, un appuntamento ormai immancabile per quello che riguarda Coronella. Siamo arrivati alla 31esima edizione, due settimane di grandi appuntamenti gastronomici. Allora, parliamo delle caratteristiche, ciò che è confermato e quali sono le novità. Noi siamo al via, rullano i tamburi, questa sera si parte a partire dalle 7.30 e aspettiamo tutti quanti. C'è qualche novità, soprattutto per quello che riguarda i piatti che abbiamo preparato per i nostri ospiti. Quindi abbiamo ad esempio, per quello che riguarda i cappellacci, una new entry, cappellacci della Duchessa con arancia candita, burro e spuma di parmigiano, che si rifà a quella che è la cucina tradizionale degli estensi. E poi abbiamo ancora la salamina all'Alfonso Primo d'Este con purè di zucca e miele. Due cose da assaggiare per forza, quindi vi aspettiamo assolutamente. Allora, quindi diciamo un richiamo anche alla storia, parlando di storia, la saga d'Alcaplazzo di Coronella è stato uno dei primi appuntamenti a credere nel cappellaccio ancora addirittura 31 anni fa. 31 anni fa, quando noi cominciavamo con la sagra, di cappellaccio non se ne parlava, neanche i ristoratori proponevano troppo spesso i cappellacci. Non dico che è stato tutto merito nostro, ma noi sicuramente abbiamo contribuito al fatto che questo prodotto ferrarese, diventato oggi GP, sia diventato importante per la cucina ferrarese. A questa ragione stiamo elaborando anche dei piatti nuovi, anche perché il cappellaccio, secondo me, varrebbe ancora di più di quello che vale attualmente. E lo vorremmo portare anche a chi non lo conosce ancora. Ecco, poi diamo l'invito a chi ci guarda anche da casa, perché ci saranno due serate, il 23 e il 28 di agosto, in cui anche la televisione arriverà alla saga d'Alcaplazzo. Sì, diretta televisiva, quindi ci esponiamo, ma siamo sicuri, perché noi ormai facciamo la saga da 31 anni, quindi volendo sappiamo comunque colmare i gap e cercare di ottenere il massimo risultato anche nelle difficoltà che possono affrontare nel momento. E quindi vogliamo far vedere come funziona dal vivo la nostra sagra, vogliamo dare entusiasmo, perché la nostra sagra è bella, è una cosa da vivere. E quindi ancora maggiormente con TeleStense la facciamo vedere in diretta e facciamo vedere come sono contenti i nostri ospiti alla fine del pranzo o della cena.